Non ti faccio niente per una questione di pioggia, siamo arpesaci col franchino Ma se ho capito, io ti dicevo dell'intasamento del pronto soccorso, è inutile che tu mi stiavi dietro Io non sono intasato Allora dice che il pronto soccorso di Arezzo si intasa perché molti per una cavolata tipo un sintomo influenzale vanno lì Invece d'andare a puti, quando ti senti qualcosa di male devi andare alla casa della salute che non funziona, lo sanno tutti Oppure devi andare ad alto medico che chissà nella fila non lo trovi E' una donna Allora vai ad alto medico e una donna, va bene, allora te ci vado volentieri Ma o se no, che fa la gente di solito? Va al pronto soccorso Soccorso Esatto, perché io mi ricordo che un anno, due anni fa diciamo Che io dicevo che le case della salute, perché queste case della salute dovevano essere case che te andavi lì Non c'era bisogno di fare niente Sennò che casa della salute è Che non avrebbero risolto il problema degli intasamenti E invece no, ma come? Ma là sotto e sopra Ecco di fatto dopo due anni L'intasamento come si risolve? Si risolve che se si intende far pagare le tasse alla gente E poi fare i tagli i famosi E fa conto al pronto soccorso dove ci vogliono Quattro medici, sei medici, se ne mette due Perché ieri risultato che ce ne erano due dei medici Quindi volevo dire no, non basta E quindi sono promesse come quelle elettorali? Sono i famosi raccontatori di novelle Sì, te sai che ci sono Ora hanno fatto una professione Una volta le novelle si raccontavano così Si, no, si metteva intorno al focolare Ora ci sono proprio raccontatori di novelle Che è un lavoro eccezionale E questa gente prende 200 mila euro l'anno Capito? A te andrai a votare? Io a votare ci vado perché è un dovere È un dovere È anche un diritto È anche un diritto È un dovere E io no Chi può darmi di più Hai capito? C'hai dato anche la tessera Però te sei lo Stato Sì Io sono lo Stato Io ci sono già stato Non c'è a te Ah, ma anche io Ti ha il pensio Ma lo stipendio me lo danno? Ti ha il pensio Lo stipendio me lo danno? Visto che sono lo Stato No, no, sta lì Ah, sta lì? Ah, va bene, vai Vai